il 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 Ci sta per la situazione, ma tu vuoi mettere i numeri della Cisina, ci ha avvisato pure la Cisina. Sì, siamo su Baciata Provincia, poi l'imbocca è lasciata che ha portato la discarica. E' dal 2004 che è chiusa il transito questa stanza. E' chiusa dal 2004 al transito questa stanza. Non sono stati autorizzati dalla regione, non hanno nessuna uscita. E' denunciato. Ma no, ma no. Dai dai, spostate. Guardano, guardano, guardano. Dai dai, forza. Oh, che spingi? Non spingi. Per favore, per favore, ti prego. Pensate ai tuoi figli, pensate ai tuoi figli. Porca puttana, fermatele, aiutateci. Sono nell'illegalità questo. Ho capito, però. Sono nell'illegalità! Sali, 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 sali. Mi sono andato a mandato a prenderla. Sali, sali. Sali, voglio. Ma fermiamo. A, puoi posti un conto in main San Comunes. Si. Ma io tvy in . Nio, vediamo cosa sta. Sì. Allora, بa stiamo scontare in spusto. Chiivi? Bi. Ma ma spostiamo scontare. Siì. Oh ma foda poi muciamo a posto. Go viarouke. Oh ma mentira a posto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti